Rebecca, nonostante la salvezza fosse già sicura, ci tenevate a chiudere bene e mi sembra ci state riuscite? È stata una partita bella, ovviamente sapevamo il valore delle avversarie, ma penso che in generale sia stata una partita abbastanza combattuta e penso che la cosa più bella sia stato il palazzetto così pieno per l'ultima di campionato, penso che valga tanto e che sia la dimostrazione e la chiusura di una stagione molto bella. Un tuo giudizio sulla tua stagione e anche a livello personale? Sono molto contenta della stagione fatta personalmente, è stato un anno di alti e bassi, però è sicuramente servita tanto anche per l'esperienza che sicuramente serviva. Un ringraziamento ovviamente va allo staff, alla società, alla squadra e alle ragazze. Grazie mille.